La rinascita di un giardino segreto attraverso pratiche di integrazione sociale e l'ambiziosa sfida dell'Associazione di Promozione Sociale Moschito che a Biceglie con il progetto Il Giardino Vicino è riuscita a restituire identità e bellezza a un luogo storico della città di Biceglie, il Giardino Botanico Veneziani, che fino allo scorso anno ha subito un abbandono durato quasi dieci anni. Oggi questo luogo presenta una collezione botanica non indifferente, arricchita e recuperata nel corso del progetto, un luogo di valenza didattica e naturalistica ma soprattutto un luogo simbolo, modello di integrazione e inclusione sociale. Il recupero infatti è stato reso possibile grazie al coinvolgimento di un gruppo di migranti richiedenti asilo che ha ridato vita a uno spazio verde di proprietà pubblica in co-working con altre realtà del territorio. Attraverso una serie di laboratori formativi è stata quindi formata una squadra di aspiranti giardinieri provenienti da tutto il mondo, Bangladesh, Libia, Senegal eccetera. L'iniziativa è tra i vincitori di Orizzonti Solidali, edizione 2017, bando di concorso promosso dalla fondazione Megamark, in collaborazione con i supermercati DOC, AEO, Famila e Iperfamila, con il patrocinio della Regione Puglia e del suo assessorato al welfare. Diverse volte il giardino è stato riaperto con vicissitudini abbastanza note alla città di Biceglie e noi lo abbiamo reso un luogo di comunità. Quindi un giardino che viene restituito dopo un anno di bonifica grazie al progetto vincitore di Orizzonti Solidali, che è un mando indetto dalla fondazione Megamark, il pollice verde dell'integrazione. Quindi abbiamo costruito una scuola di giardinaggio sociale in aula, poi abbiamo fatto delle lezioni pratiche all'interno del giardino e siamo andati avanti fino ad oggi in cui il giardino viene appunto riaperto e si presenta in tutta la sua bellezza. Sicuramente l'associazione ce la mette tutta, noi siamo volontari fondamentalmente. L'appello oggi è quello di non lasciarci soli, quindi le istituzioni, tra l'altro questo è un giardino comunale, un giardino pubblico, quindi noi facciamo di tutto con creatività, con volontà, con impegno, con amore. Riusciamo a tenere aperto questo giardino e a renderlo anche un luogo di interesse scientifico, didattico, ma anche un luogo ludico. Si possono anche costruire degli eventi, fare picnic. Però ecco, per rimanere aperto c'è bisogno di tutti, c'è bisogno soprattutto delle istituzioni, ma anche di tutta la città di Biceglie. Ma credo proprio di sì, io sono qui appunto per testimoniare il grande impegno dell'associazione Moschito e la volontà che ha messo in campo per realizzare questo progetto non era semplice, ma al fianco ho avuto Megamark, il gruppo Megamark e il Cavalier Pomarico, che con la fondazione sono generosissimi e anche lungimiranti e hanno consentito di realizzare questo piccolo miracolo, perché questo era un parco chiuso e abbandonato da anni. Questo progetto l'abbiamo finanziato con i fondi stanziati nel 2017, ci è piaciuto tantissimo l'idea, per cui siamo qui oggi ad inaugurare questa restituzione di questo bene di polmone verde alla cittadinanza di Biceglie, ma soprattutto anche a vedere giovani di colore impegnati in questa ripresa, ristrutturazione di questo bellissimo verde e soprattutto imparando ad integrarsi con il sistema socio-economico pugliese, bicegliese e quindi ad imparare un mestiere.